ragazzi pronta la verza al forno è croccante ragazzi stasera facciamo la verza con la salsiccia piccante allora un rosolato da cipolla con la carota aggiungiamo il pomodorino aggiungiamo la verza lo facciamo girare un po' quindi prende tutti i sapori sale un po' di timo ho tolito un po' tanto e un po' d'alloro e mescoliamo giriamo un po' di pomodoro non tanto aggiungiamo anche la salsiccia piccante e trasferiamo tutto in questa pirofila palonna pesante sta padella e andrà al forno 20 minuti controllate comunque si deve rosolare un po' un giro d'olio sopra e al forno ragazzi pronta la verza al forno è croccante la verza al forno la verza al forno Grazie a tutti.